OGL, Wille e OGL, i lavoratori del teatro stabile sono sotto il palazzo della regione siciliana perché manifestiamo, per chiedere certezza per il teatro stabile. Le dichiarazioni rilasciate ai giornali in questi giorni ci fanno preoccupare. Qualcuno che tira le responsabilità sulle lavoratrici, i lavoratori e i loro rappresentanti deve ricordarsi che prima si va in procura, poi si parla ai giornali. Siamo convinti che il teatro stabile vada salvato. Siamo convinti che si deve fare sulla base della chiarezza totale. Noi vogliamo chiarezza ma non abbiamo una carta, non abbiamo mai avuto accesso a un bilancio, non abbiamo mai letto questa fattomatica relazione. Siamo pronti a ogni sacrificio per salvare il teatro. Se i soci non hanno il coraggio, che lo commissariano, che chiedano il commissariamento. Siamo pronti a lavorare con i soci e la normale gestione o col commissario, non c'è problema. Ma una cosa è certa, non vogliamo più assistere a questo stucchevole gioco di scarica a marine. Il teatro stabile è un ente culturale importantissimo. Va salvato. CGL, Will e UGL sono qui per questo.